Ciao, io Franco Pini, sono il marito Gianni Piercarlo Francesco Maria Fugo. Io Miriam Messurino, sono Cristina, la moglie, però siamo separati da dieci anni. Però, questa notte l'abbiamo passato insieme molto piacevolmente. Però, da quattro anni io sono fidanzata con un altro uomo. Ah sì? E come si chiama il tuo attuale fidanzatino? Futuro marito. Futuro marito. Futuro è il nome o il cognome? Il nome è Luca, il cognome è Negroni, il personaggio è Vittorio e sono il futuro marito. Senti futuro marito, che ne diresti se ci dessimo del tuo? Perché se tu ti devi sposare con mia moglie Cristina saremo tutti e due cognomi. Cioè, una specie di parente. Io nella mia vita ne ho conosciuti parecchi di tipi come te. Di professione simpatico, conversatore affabile, superficiale. Che meraviglia, due uomini che litigano per una donna, roba d'altri tempi. Al giorno d'oggi si preferisce a spartirsela e sono tutti contenti così. Però fermiamoci qua, se no raccontiamo tutta la commedia. La commedia parte in maniera hilare, divertente, comica. Poi diventa un po' cattivella. No, diventa, come dire, grottesca. Grottesca. Con un colpo di teatro finale da non perdere. Però, se questo colpo di teatro lo volete vedere a teatro, ci dovete venire. Colpo di teatro, se no. È in teatro. Va in teatro. Non vedete. In teatro a vedere cocktail per tre. Però. 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 Di teatro.